Le chatte dicono che non è vero che hanno gestito in autonomia la nominazione. Noi dovevamo passare davanti a quello che erano considerati i medici nel lager che soltanto col gesto di una mano decidevano che poteva continuare a vivere. E chi invece doveva andare a morire. Senti con il cuore il ricordo delle persone che erano lì. E diventare testimoni di quelle persone che hanno vissuto questa tragedia. E so che state lavorando tantissimo per trasmettere le vostre emozioni ai vostri compagni, alle persone che non sono venute. Questo è il modo con il quale dobbiamo utilizzare la memoria e renderla attuale affinché generi un futuro diverso. Sia il colore della pelle è diversa, sia un orientamento sessuale diverso. Noi lo abbiamo sentito dalle loro parole. E allora dobbiamo far sì che tutti i giorni le loro parole che ora hanno piantato un semino dentro di noi siano quella molla che ci fa indignare, che ci fa non rimanere indifferenti quando qualunque tipo di violenza, di sopruso viene commesso davanti ai nostri occhi. Abbiamo la possibilità di iniziare a cambiare il futuro da quello che accade intorno a noi, sempre. E a quanto in più è necessario oggi, vado sempre in più, purtroppo. Vado sempre iniziare a cambiare il futuro da quello che accade intorno a noi, sempre iniziare a cambiare il futuro.